Cia Agricoltori Italiani Capitanata ha un nuovo presidente provinciale. Michele Ferrandino ha passato il testimone ad Angelo Miano, che dunque sarà la nuova guida dell'Organizzazione Sindacale degli Agricoltori. L'assemblea elettiva di Cia Capitanata, che si è svolta mercoledì 16 marzo nella sala conferenze Formedil, ha inoltre confermato nel proprio ruolo il direttore provinciale Nicola Cantatore. Angelo Miano, originario di Lucera, dove svolge la propria attività di agricoltore, vicepresidente del consorzio di bonifica della Capitanata, Miano sarà coadiuvato oltre che dal direttore Nicola Cantatore anche dalla presidentessa Vicario Silvana Roberto e dai vicepresidenti Andrea Iaffaldano e Pellegrino Mercuri.